Amici, questa volta chiedo un aiuto a chi è più esperto di me in questo campo della materia di elettronica o elettricità. Sono in pensione, ho quasi 70 anni, ho avuto tanta esperienza di lavoro, ma questa cosa qua non riesco a capire. Sistemando l'apparecchio, che dopo vi mostrerò come funziona per riscaldare la casa a gas, c'è questa eletrovalvola che l'ho trovata difettosa, perché questa eletrovalvola, c'è il perno che fa scattare e apre il gas che circola. Il problema è che ci sono due eletrovalvole, dopo vi spiego, ve le mostro. E questa, che è uguale a quell'altra, ha una resistenza di filamento, almeno aveva una resistenza di filamento, il doppio di quello che adesso me lo ritrovo. Infatti adesso misurando per le bobine sulle bobine, che sarebbero questi due capi qua, segna 5.000 ohm, la portata di 5.000, si lavora a 220 volte corrente continua, e questa è la resistenza, uguale a quell'altra. Però questo prima, poco fa, per quello ho cominciato a fare questo video, perché non riesco a capire. Intanto la bobina cos'è? Nient'altro che un avvolgimento calcolato per 220 volte dc, corrente continua, scriviamo dc, ecco, che attira, diciamo, il metallo che fa aprire il gas, una valvola, insomma, ecco, facciamo il simbolo così. Chiuso, nel momento che viene attirato, questo va su e apre la circolazione del gas che circola, o potrebbe essere acqua, olio, qualunque cosa, in questo caso c'è il gas, e non c'è nient'altro che una bobina qua dentro, bella bobina, che anche lì ha abbastanza resistenza, perché va a 220, corrente continua, quindi deve essere ancora più alto il filamento rispetto a un'alternata, e l'alternata avrebbe meno bisogno di filo, di spire. Cos'è successo? Che prima mi segnava, invece di 5.000, adesso risulta 5.000 ohm, 5.000, facciamolo così, ecco, 5.000 ohm, uguale a un'altra che ho confrontato, che è uguale, se sono in parallele, in serie, sono due messe in serie per sicurezza, l'altra è qua, nel stesso tubo, che fa la stessa funzione, l'aspira, è sempre collegata in parallelo, una e due, che dopo va sul circuito, perché? Perché se una si guastasse, l'altra funziona, e se uno si blocca aperta, l'altra funziona e chiude, quindi c'è una sicurezza, se non va tutte e due insieme, non funziona niente, e blocca tutto. Cos'è successo? Che ho trovato, misurando, non funzionava tutto il meccanismo, perché non passava il gas. Ho scoperto che questa qua, proprio questa, invece di avere 5.000 ohm, come quest'altra, aveva, con strumento, sempre lo stesso, segnava 13.000 ohm, più del doppio di ohm. Se fosse interrotta, era facile, è interrotta e basta, segnava una resistenza più alta. Ma beh, ho pensato, non so, si è ossidato il contatto, qualcosa, però la bobina c'era, perché l'ho addirittura, e dopo collegata, con dei fili, a una limitazione, ma neanche tanto, di 110 volt, perché avevo sotto mano un trasformatore di bassa tensione, più bassa, perché siccome va in contenente continua, ho detto, non vado a mettere 220 alternata, non so cosa, come si comporta, non voglio danneggiarla, e ho messo 110, e ho visto che attirava, mettendo il metallo qua, sentivo che funzionava, però, essendo così alta di resistenza, ho detto, va bene, funziona, però non ha quella forza di aprire il rubinetto, diciamo, del passaggio del gas, e l'ho lasciata collegata. Cos'è successo? L'ho sentito anche che tiepida, che lavora, che lavora, l'ho lasciata per un'oretta accesa, l'ho staccata dalla corrente, e ho misurato, e risulta che invece di 13.000 ohm che aveva prima, è venuto uguale a quell'altra etrovalola, 5.000, vedete qua, uguale, non c'ha perdite rispetto alla massa che è questa, questa è la massa che porta il telaio alla terra, che è in effetti collegato a terra, se tocco qua, qua non c'ha nessuna perdita, è isolato, la massa è la massa, non c'entra niente, però funziona. funziona, allora chiedo un aiuto, come mai, cosa può essere successo, come mai è tornata sua sana? Adesso funziona, adesso la metto su e vediamo che sicuramente funziona. la bobina, quello che domando è cosa può essere successo, se la bobina delle spire, non so quante sono, 1.000, 2.000 spire, sono finissime, ci sono dentro qua, come mai si è ripristinata così? cosa, questa non so spiegarmi, se si era un falso contatto magari qua, qua su due due parti i fili che segnava, non segnava, però mi pare strano che segnava sempre costante, non è che era lì, si interrompeva, ecco, ti chiedo cosa può essere successo, avete avuto esperienza in questo campo qualcuno, per me è un mistero, è capitato più di una volta dei misteri, non è stato mai risolto, non si è capito il motivo, comunque, adesso lo monto su e vi mostro così come funzionava e come funzionerà, però quello che chiedo è, se qualcuno lo sa, scrivete pure sotto sui commenti quello che immaginate potrebbe essere, tutto è utile, solo per curiosità, perché non è che mi capiterà ancora nella vita un affare del genere, però è la prima volta che una bobina così di un'elettrovalvola fa questo scherzo qua, almeno nel mio campo, non è che ho avuto tra le mani granché elettrovalvole da sistemare, le montavo su, sulle macchinari, nuove, funzionava tutto, ma questa volta, riparando questo riscaldamento, la stanza, ha fatto questo scherzo qua, chissà qualcosa, scrivete, chi ha immagina di sapere, scrive pure, tutto è accettato, grazie del motivo, perché può essere ritornata sana questa bobina, il fatto che sono andato ad acquistarla dove vendono proprio roba idraulica, ce l'avevano una simile, tutto uguale come tensione, come volta, come potenza, però il buco era leggermente più piccolo, questo a 11 mm, era misurato col calibro, e l'oro era più largo qua, però a un certo punto qua, in una parte, era forse 8 mm, bisognava forare col trapano per farlo entrare, però era un rischio che magari dopo non andava bene, perché, non so perché, e costava 27 euro, allora, per non prendere una cosa che dopo magari non funziona, ho voluto fare questa prova qua, allora, adesso la mettiamo su, e così vedete anche la sua funzione che faceva, e che fa, e che funzionerà sicuramente, sono sicuro che funziona, non l'ho provata ancora, l'ho provata solo così, prima di metterla su, andiamo a montarla, questo è il riscaldamento, siamo qua nel buio, un macchinario che, il gas, entra dentro, in questo tubo, e con la scintilla che fa accendere il gas, e scalda tutto, qua c'è una ventola, che ci fa accendere l'aria, che fa uscire i fumi fuori, e aspira i fumi, l'aria, cioè tutto, col stesso tubo entra e esce l'iscaldamento, che scalda dopo tutto, vabbè, questo è, qua c'è, una è trovabile, uguale a quella che vi ho mostrato, e l'altra è qua, se non va una, non va neanche l'altra, perché sono inseri nel tubo, adesso la mettiamo su, qua c'è il seger, che dopo la metterò, che blocca, che blocca, intanto collego i fili, che sono questi tre, uno è la terra, e l'altro, che sono in parallelo, a quest'area, la terra, e gli altri due, 220 volte in corrente continua, ecco collegato, adesso, do corrente, ecco allora proviamo a attaccare, adesso, vediamo se funziona, qua dovrebbe fare la fiamma, ecco la grazia, sta andando, ora rispegno, facciamo partire dal buio, così si vede meglio, i scintili devono fare dentro, facciamo di nuovo partire, è partito, ecco funziona, va a capire perché, quella retrovalvola, non dava, chi si mi sa spiegare, ma è un bravo, non riesco a capire, come mai, dovrà sì che si guasterà ancora, forse, e allora bisogna sostituirla. mettiamo la chiusura, il gioco è fatto, funziona, va bene, grazie per i consigli che mi date, ciao ciao! grazie a tutti ciao